è pieno di gente con le bici non siamo gli unici oggi non siamo i soli ciao a tutti anche oggi siamo qui in consiglio e ora faremo lo stesso giro dell'altra volta ma nel senso contrario e oggi andremo su verso il monte pizzocchi fino a raggiungere il sentiero del Taffarell adesso siamo arrivati all'altezza del sentiero che abbiamo fatto l'altra volta per scendere fino a Vallorg ed ora andremo per il sentiero del Taffarell fino a Campon all'altezza del Taffarell Grazie a tutti Guardiamo se ci sono cervi Grazie a tutti Pararami che tira su Davide Su 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 Pompa pompa È tanto fango Occhio che alle foglie Che nascondono le pozzanghere e il fango Qui presente dice che è fattibile anche con la gravel No con quella da corsa Con le ruote fine Con le ruote da 600x19 Devo ricordarmi che questi copertoni Non hanno i tasselli laterali Qui scivolano tanto se La butto giù in curva E ora dai fagi siamo passati agli erbetti rossi Bellissimo Salve 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 Occhi ciclisti Sì È messo malino comunque il terreno con le piose Siamo arrivati per poco Sì 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 Occhio sbarra E qua siamo sulla strada per il palughetto tra poco saremmo a Campon e qua facciamo rifornimento d'acqua tra poco facciamo merenda a pia rosada adesso beviamo un po' di acqua cimbra adesso prendiamo la forestale per pia rosada non cimbra Grazie a tutti ecco qua il gruppo del cavallo il cruiserat e il candaglia eccoci abbiamo Rosala e ora mangiamo il rifugio La Pussa com'è andata? benissimo bagnare bene? adesso acquisizione grazie a tutti grazie a tutti